E' giorno e' sera. Buonasera. Salve a tutti, salve a tutti, video ultra veloce, abbiamo fatto un po' di spesa, siamo andati per comprare il pesce fresco all'Ivercoco, ma c'era una fina interminabile e quindi si sono attaccate alle mani un po' di cose che erano in offerta. Questa non è l'offerta ma l'abbiamo comprata. E' perché facciamo le patate? Le patate, io le metto a posto. Poi abbiamo comprato questa, non so se l'avete provata, la passata grossa della pop che è buonissima, a me piace molto. Abbiamo portato quest'olio per friggere perché noi usiamo quello, come si chiama? Quello casareccio, ma per friggere o per fare, per cucinare a volte usiamo questo, questo o altro. Poi 98 centesimi abc, tarmigiano e succhetto di frutta con grissini, buono buono, mi piace, mi piace. Poi stracchino pettinicchio rigorosamente, era in offerta. Allora 1,29 euro, quanto costava Marco? Quanto costa? 1,25 euro. Stracchino 1,79 euro. No, dai, non per i oggi. 1,25 euro, io ho letto, t'hanno fregato, 1,52 euro. 1,25 euro, era palindromo. No, 1 euro di sconto. Com'è possibile? 1,79 euro. Comunque, dicevo, me li può dare tutti e due insieme, almeno un po'. Ma li devo cercare. Poi, l'erdamber. Poi mi ha fatto prendere l'erdamber, io uso pure il massdamber. Poi, altro pettinicchio. Gorgonzola dolce latte. Facciamo veloci perché dobbiamo andare a prendere il pesce. Ancora questo. Poi abbiamo comprato questo yogurt bio, che dovrebbe essere molto buono, quello vipiteno, non so se l'avete mai assaggiato. Il vipiteno sì, ma questo bio non lo so. Com'è? Dovrebbe essere ancora più buono. No, uguale. Poi, pasta vogliello. Eccola qua, ne abbiamo comprato due pacchi. Eccoli qua. Era un offerto, ma non so. Era un offerto, non lo so. Pasta, pasta. Mi basta una pezza di pesce. Eh, sono i cambi. Allora, la pasta grossa, 80 centesimi, quella che avete visto nel barattolo di vetro. Vogliello, 1,09 euro. Beh, c'è, non... Però 76 centesimi di sconto, vedi. 1,09 euro, poi 76 centesimi, tutti e due, cioè la metà di 76 è fatta. Poi abbiamo comprato, che ci sono piaciuti? Buoni. Questi sono veramente, veramente buoni. Però li deve sciacquare, eh? Li sciacquiamo e poi li cuociamo come se fossero... Allora, sciacquare, quando non apre, diceva no. Conti, sì. Puzzini di pesce. Puzzini di gamberoni. Eccoli ancora, 80 centesimi, buonissima, pasta grossa, copp. Poi ho comprato per me questi, che mi sono rotti. La crema alla vaniglia, crema all'esterno vaniglia, 1 euro e qualcosa. Qui c'entra più niente. Sempre la... C'entra, c'entra. Questi qui sempre in offerta, favolosi, eh... Müller, Maxi Müller, eh, a 59 centesimi, 50, no, 54. Ma questi che non li prendi? Bora, bora. Eh, bora, bora, eh. Eh, scusa, eh. Poi, queste mozzarella vanno allelata in offerta, anche loro per fare la pasta al forno. E le abbiamo pagate, 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 non me lo ricordo. Uh, boh. Non me lo ricordo. 4 euro e 55, ma che dici? Poi, auricchio, buono, perché abbiamo una marmellata eccezionale che fa il figlio di una mia amica e collega. Ha una mela e peperoncino, non potete capire che squisitezza. E quindi non ci mangiamo l'auricchio. Poi, ho comprato questa da tenere di scorta, se non ho voglia di farla, la pesciamella. Facciate. Abbiamo comprato, ecco, questi porchetti e coltelli, perché io il giorno di Natale lavoro 12 ore, 12 ore. Ma io perché guardo lì invece la teletamera? Cioè, gli occhi così... Ah, non lo guardavi. Ma perché dici guarda? Qui guarda, che tu puoi pensare che riprendiamo questa? Ma che ne so. Ecco, ovviamente questo qua, forse dice, ma forse c'era la camera qua dentro. No, mi prego. Vabbè, comunque, forchette e coltelli. Poi, poi, poi. Abbiamo preso sempre questo che non era in offerta, però è buono. Filetti di tonno. I filetti di salmone erano in offerta, buono, usavo un 3 euro o qualcosa del genere. Credo. Sì, questi sono buoni, dobbiamo assaggiare. Sì, buonissimi. Sono meglio del coso, del pelo fresco. Sì, sono meno grassi. Perché è filetto. Sì, è filetto. Ma io ti do ragione, vedi? Che poi, che ho comprato? Ah, no, questi li devo mettere qui. Ma c'è un'altra cosa, non ricordo. Ah, i pocket coffee. Quelli che ho inventato io. Vabbè, i pocket coffee inventati da Marco. Non sono inventati perché qualcuno li ha inventati, i pocket coffee. Ma io li ho ideati. I pocket coffee, questi dei caffei nati. Ecco, li ho ideati io, non ho copiato. 2,99 euro sono 10. Calcolando che uno, un blister da 5, costa 1,99 euro. Questi sono due, da 5, costano 2,99 euro. Ok, noi vi salutiamo perché andiamo di fretta a fretta. Buon Natale. Ah, volevo farvi vedere le tisane. Le tisane. Mi fai vedere la marvellatina, quella lì di mele, peperoncino, che ho fatto il giorno favo? Eccola. E anche il peperoncino. Eccole qua. Sono deliziose, sono deliziose. Questa è una cosa bestiale. Questo è super hot. Non si riesce nemmeno ad assaggiarlo. No, è questo qua, le tisane. Le tisane ora non le possiamo far vedere perché sono incartate. Dallo speziale c'è proprio un ragazzo qui a Viterbo che vende proprio queste cose qua. Questa è una cosa sublime, è arancia e pompelmo. Quello l'abbiamo fatto rivedere, quello è albicocca, il tè verde all'albicocca. Fa così va? Fa così. Poi, sentite il odore? E poi aspetta, abbiamo preso quella, ce la fa assaggiare lui però. Questa è mela, mela cotta e cannella. Questo è il nostro aggino. Strepitosissime. Strepitose. Ok. E va bene, allora li salutiamo perché abbiamo un pochino di stamane, dobbiamo andare a prendere il pesce, dobbiamo fare un sacco di gira. Se non ci vediamo Buon Natale, si dice così, no? Se non ci vediamo Buon Natale. Ciao ciao, ciao ciao, attacco io. Tacco, attacco.